I carabiniere hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi di 31 anni, residenti nella provincia di Roma, perché ritenuti responsabili di una rapina avvenuta il 27 novembre scorso a Mormanno, nel Cosentino. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la coppia, dopo aver parcheggiato l'auto, avrebbe iniziato a passeggiare lungo il corso principale della cittadina del Pollino, entrando e facendo acquisti in negozi di vario genere, per poi accedere alla gioielleria. I due si sono mostrati subito interessati all'acquisto di orologi, collane e bracciali, e dopo averne visti diversi contenuti in rotoli, hanno scelto una catenina, un paio di orecchine e una crocetta d'argento, per un valore di 385 euro, pagati con 400 euro in contanti. Al momento della consegna del resto, hanno chiesto al proprietario del negozio di preparare i pacchetti regali di quanto hanno acquistato, e che sarebbero tornati dopo per ritirare il tutto, uscendo così dalla gioielleria. L'anziano titolare, non vedendo ritornare la coppia mentre stava per riporre i rotoli con la merce esposta, ha notato che sul banco ne mancavano tre, contenenti collier, girocollo, catenine d'oro e ad anelli, il tutto per un valore tra i 60 e i 65 mila euro. Dopo aver cercato in vano la coppia e chiesto agli altri negozianti se l'avessero vista, si è purtroppo reso conto di essere stato derubato, così si è rivolto ai carabinieri, ricostruendo l'accaduto, rendendosi conto che le troppe richieste di visionare gioielli lo avevano distratto dal controllare tutta la merce sul bancone. Qui, con destrezza, i due hanno sottratto tre rotoli e poi con calma si sono deleguati. Ma i carabinieri sono risaliti alla loro identità grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona. Il gioielliere li ha riconosciuti permettendo di arrestarli.